E' tutto pronto per la cerimonia conclusiva di questa ventitresima edizione della Mimosa d'Oro. Un programma anche quest'anno molto ricco, malgrado si parli di crisi in qualsiasi settore. La crisi infatti c'è, ma noi cerchiamo di scrollarcela dalle spalle e continuare a lottare affinché le cose belle continuino. E infatti martedì ci sarà la Mimosa d'Oro con la consegna del premio a due eccellenze. A Simonetta Agnello Orbi, una grandissima diciamo avvocatessa che si è imposta con uno studio che si occupa dei diritti dei famigli e per i minori a Londra. Però anche se manca da tantissimi anni, porta nel suo cuore sempre la sua Sicilia. La vediamo in tutti i suoi aspetti, nei suoi libri, nei suoi tantissimi libri. Quindi una donna diciamo eccellente veramente. L'altro premio, l'altra Mimosa, va a Simona Azzori. Simona Azzori è ballerina, è pittrice, è scrittrice. Ed è veramente qualcosa di grande perché mostra non solo i giovani ma tutti noi che nella vita si può tutto se si vuole. E quindi veramente siamo orgogliosi di premiare queste due donne. Anche riconoscimenti speciali che quest'anno vanno a Maria Immordino che è la presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, a Valentina Laimo giornalista, a Giulia Sorce volontaria del Mondo X, a Claudia Rizzo che è presidente dell'Accademia Le Muse di Favara, e a suor Maria Goretti, una suora veramente che vale la pena conoscere e seguire. Ecco, sono tutte donne che al di là delle quote rosa si impegnano affinché veramente la nostra, diciamo la nostra Italia, ma soprattutto la nostra Sicilia cambi. Abbiamo momenti anche belli di solidarietà con Claudia Colli perché noi da tantissimi anni aderiamo al progetto per la costruzione di un ospedale nel Burundi e la consegna della solidarietà sarà data da alcuni ragazzi delle varie scuole della provincia. Continuiamo con l'Accademia Palladium, con i ragazzi ti lascio una canzone e il concerto di Mietta. Grazie a tutti.